Gemmuse Foam Supreme, una mousse a fissaggio forte adatta ad ogni tipo di capigliatura, capello grosso, fine o medio, perfetta per ogni stile, dona ampio fissaggio tanto nella piega bigodini quanto nell'asciugatura a mano libera. Grazie alla sua formula compatta si distribuisce perfettamente sul capello e permette anche di essere utilizzata come fissaggio prima di una piega a forma.